Si realizzava finalmente questo sogno da 14 anni che ho seguito, però con molta fiducia e molta gratitudine per quello che avete fatto in questo periodo. Io non conoscevo i tempi tecnici per arrivare a questo traguardo, però adesso che ci siamo arrivati va bene così. Ho già consigliato a molti miei colleghi, anche a quelli più scettici e penso che arriveranno altre adessioni da Catania. Professionalità massima.